Alza le mani. E il coraggio di consegnarlo alla giustizia. Non mi conosci e noi due non siamo amici. Ti avevo detto di restare a casa. Non ci torna indietro. Tuo figlio non è venuto per te, è venuto per me. Ancora una parola e ti faccio fuori. Così mi piaci, Dan. Dove l'hanno portata? Non lo so. E mi uscire! Verranno, quant'è vero il Dio. Arrivano, li ho visti! Bruceremo la città! Richiamateli. E perché dovrei? Perché non siete come loro. Sì, invece. Non dimenticarlo. Tuo padre ha ascoltato Ben Wade alla stazione quando nessuno voleva farlo.